Questo video in collaborazione col programma di EA, Creator Network di Electronic Arts. Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti o bentornati sul mio canale. E infine è arrivato a noi Frenesie ai Fornelli Staff, diciannovesimo staff pack di The Sims 4. Grazie al programma di Electronic Arts ho la possibilità di portarvi in anteprima e non vedo l'ora di scoprirlo insieme a voi. Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio al video e buona visione. The Sims 4 Frenesie ai Fornelli Staff Pack ti dà il benvenuto. Piccoli elettrodomestici, grande aggiornamento. Allarga i tuoi orizzonti culinari attrezzando la tua cucina di piccoli elettrodomestici. Planetaria, piastra per goffre e forno da bancone per pizze. Sviluppando le proprie abilità i sim potranno sfruttare i nuovi elettrodomestici e scoprire ricette deliziose. Rifornisci di cibo il quartiere. Trasforma la tua passione per la cucina in un'attività parallela. I sim possono aprire una piccola attività a tutta loro con il nuovo chiosco gastronomico nonché vendere prelibatezze e pasti invitanti ai vicini. Nuovi stili da chef. La tua avventura culinaria non sarebbe completa senza la moda giusta. Pettinature da cucina, accessori a tema gastronomico e grembiuli per tutta la famiglia trasformeranno i tuoi sim in perfetti chef dilettanti. Le premesse ci sono. Direi di andare a vedere il nostro staff pack. A questo punto direi di vedere insieme tutto ciò che contiene lo staff pack nella modalità crea un sim. Quindi si comincia dalla nostra famiglia di sim nudi e belli pronti per la review. Partiamo dalle simmine e vediamo subito i nuovi capelli aggiunti. Vengono aggiunti diversi contenuti per quanto riguarda il diciannovesimo staff pack. Ecco qua i primi fascia guardate un po' laterale fascia però con il recolor vedete in due colori i capelli senza la fascia molto carina. Questa mi piace un sacco anche qua ragazzi ovviamente il recolor poi basterà cambiare colore e vedete più o meno. E poi abbiamo questa invece con i capelli raccolti i limoni molto molto beh da cucina. Vengono anche aggiunti cappelli nuovi quindi vado a mettere giusto appunto i filtri. Eccolo qua abbiamo questo nuovo cappello che oh questo mi piace come vedete avvolge tantissimo i capelli e secondo me per l'inverno è qualcosa di molto molto carino. Guardate un po' le colorazioni direi che è davvero tanta tanta roba. Vengono aggiunti anche degli accessori con il nostro nuovo staff pack nello specifico collane e anche vedete collane e orecchini. Abbiamo questi a forma di frusta sempre di vari colori cambia il materiale. Abbiamo questi cerchi con la fettina di pizza beh ci sta è tutto improntato alla cucina. Abbiamo invece questi molto semplici però mi piacciono addirittura questi ce li vedo anche un po' più formalini e in realtà sono dei coltelli. E infine abbiamo la collana anche questa ragazzi con la frusta e in vari colori e vari materiali. Abbiamo anche accessori inferiori e quindi vado subito a prenderli ragazzi. Eccoli qua abbiamo due guanti che ovviamente vanno utilizzati in cucina. Quindi come vedete abbiamo questi di vari colori e abbiamo questi che in realtà sono più guanti in lattice se vogliamo. Guardate un po'. E anche questi li possiamo utilizzare per le preparazioni dei nostri cibi. Andiamo però a vedere le parti superiori inferiori e intere che il pack aggiunge. Abbiamo qua ben cinque parti superiori. Molto bella questa felpa. Guardate un po' i dettagli. Mi piacciono moltissimo i colori. Quindi seppur ecco in questo caso non abbiamo niente legato alla cucina quindi la possiamo utilizzare anche come felpa sportiva. Ci sta. T-shirt ovviamente con varie cose sempre legate alla cucina. Guardate che carina. Mi piace. Guardate un po'. Guardate che carine tutte le colorazioni. E poi abbiamo questo. Che è una sorta di giacca da chef se vogliamo. Guardate un po'. Magari questa la possiamo utilizzare qualora andiamo ad utilizzare il nuovo banchetto per vendere il cibo. Grembiule decisamente più casalingo ma ci sta per la cottura di cibi. In cucina. Guardatelo un po'. Addirittura anche tutto sporco di farina. E infine t-shirt con fularino. Guardate un po'. Di due colori. Molto molto carina. Anche questa dai. Direi che ci sta. Abbiamo anche un nuovo tipo di pantaloni. Eccoli qua. Che ovviamente si abbinano alla giacca di prima. Li troviamo sempre in vari colori. Vi faccio vedere un po' i dettaglietti dei pantaloni. E questi possono davvero costituire una divisa per la vendita di cibi. E però abbiamo anche ovviamente i nuovi vestiti interi. E ora li vediamo subito. Ne abbiamo ben tre. Abbiamo questo che abbiamo visto anche nel trailer. Guardate un po' di vari colori eh ragazzi. Guardate un po' le colorazioni. Molto molto carino. Adesso vi faccio vedere anche più o meno i dettagli. Poi abbiamo questo decisamente più da cuoca. Guardate un po' anche qua col grembiulino corto. Sporco e non. Carini i dettagli. Eh sì ragazzi ci sta. E infine questo che come vedete è un grembiulino un po' più largo. Un po' più comodo se vogliamo. E mi piace. Mi piace tanto. Guardate un po' anche qua. Tutti i dettagli. Sporco pulito e così via. Vengono anche aggiunte. Se credo solo un paio. Ma metto il filtro per completismo. Le crocs. Guardatele un po' di vari colori. In cucina queste davvero le utilizzeremo eh. Guardate un po' i colori. Direi che ci stanno benissimo. Altra cosa che viene aggiunta ragazzi. Però per farvela vedere. Dovevo far così. Dovrebbe essere un nuovo tipo di tatuaggio. Eccolo qua. Con tutti gli strumenti da cucina. Colorato. Grigio. E nero. Eccolo qui. Per il resto abbiamo visto tutto ciò che contiene. La modalità compra e costruisci per le simmine. Andiamo dai simmini ragazzi. Perché i simmini hanno diverse cose. Come vedete hanno i capelli raccolti. Anche loro in una fascia. E hanno anche questa nuova pettinatura. Col ciuffetto così. Molto carina devo dire. Questa pettinatura mi piace. Abbiamo anche per loro lo stesso cappello. E anche per loro gli stessi accessori. Mentre per quanto riguarda le parti superiori. Ne abbiamo diverse. Abbiamo questa. Che è la controparte maschile della nostra divisa. Sempre in vari colori. Abbiamo questa con il panno sulla spalla. Guardate un po'. Eccolo qua. E infine abbiamo questo. Che in realtà è lo stesso col fularino. Per il resto ragazzi. Gli altri sono tutti i pezzi unisex. La felpa e la t-shirt. Stessi pantaloni. Anche questi unisex. Per entrambi i simmini. Mentre il corpo intero abbiamo questo. Come per le simmine. Abbiamo questo. Un po' diverso rispetto a quello femminile. Guardate un po'. Molto carino. E abbiamo anche questo. Sempre diverso. Un po' più maschile. Sempre per i nostri simmini. Che però ha all'interno le stesse identiche decorazioni. Però direi che ci sta. Accessori sono i medesimi. Le scarpe sono le medesime. E per il resto ragazzi. I simmini hanno queste varianti. Bambini signori. Per quanto riguarda i bambini. Abbiamo una parte superiore. Questa. In vari colori. Molto molto carina. Mi piace. Vediamo un po' le parti inferiori. Non ne abbiamo. Corpo intero. Beh abbiamo il grembiolino. Anche per i nostri bimbi. Guardate un po'. Accessori. Non ne abbiamo. Scarpe. Non ne abbiamo. Però abbiamo. Probabilmente. Esatto. Guardate un po'. I nostri capelli. Per bambini. Tre. In questo caso. Abbiamo anche la cuffietta di prima. E accessori. Non ne vengono aggiunti. Stessa cosa. Vale per i bambini. Maschietti. Abbiamo sempre la stessa t-shirt. Abbiamo lo stesso. Tipo. Di grembiule. Abbiamo invece. Due capelli. Per simmini. Per il resto ragazzi. Abbiamo solo il cappello. Da mettere a chiunque. Todlerini signori. Loro ricevono il cappellino. Per quanto riguarda invece. I lattanti ricevono. Il cappellino. Anche loro. E ricevono anche. Se non erro. Una parte intera. Eccolo qua. Tutto legato alla cucina. Una tutina nuova. Abbiamo visto. Tutto il crown sim. Di The Sims 4. Fremesi ai fornelli. Ma una cosa importante. Di cui non abbiamo parlato. E' la nuova aspirazione di vita. Nella categoria cibo. Infatti abbiamo. Mago degli elettrodomestici. Il sim. Si sa orientare. Tra i piccoli elettrodomestici. Da cucina. E vediamo un po. Poi in partita. Cosa questo comporta. Abbiamo poi. Magnate del mercato. Nella categoria. Ricchezza. Il sim vuole gestire. Il chiosco gastronomico. Più redditizio. Quindi signori. Il nostro staff pack. Aggiunge. Ben. Due aspirazioni di vita. Io metterei questa. Metterei tratti random. Anche perché. Abbiamo visto tutto. Il crown sim. Passa quindi. Alla modalità. Compra e costruisci. Nella categoria. Delle stanze. Ne abbiamo. Ben due nuove. Che ci fanno vedere. Più o meno. Una panoramica. Di ciò. Che ci possiamo aspettare. Abbiamo infatti. Esperienza. Gastronomica. Eurofusione. A 15.000 simoleon. Di vari colori. E ve la faccio vedere. Molto velocemente. Una stanza. Con l'isola centrale. E già possiamo intravedere. Come personalizzare. Tutti i banconi. Devo dire. Gli oggetti. Mi piacciono un sacco. E a 18.000 simoleon. Abbiamo cucina del caffè danese. Anche questa. In vari colori. Ve la faccio vedere. Questa è ancora più grande. Come cucina. E anche qui ragazzi. È una sorta di mix. Tra gioco base. E frenesia. E fornelli. Guardate un po'. Cosa ci possiamo aspettare. Andiamo a questo punto. Però a vedere. Quello. Che introduce. Lo staff pack. Per quanto riguarda. La modalità. Costruisce. Abbiamo. Un nuovo tipo. Di carta da parati. Le maglioliche. O le cementine. Che dir si voglia. In vari colori. Queste. Mi piacciono. Particolarmente. Guardate un po'. Le varianti. Sono davvero. Carinissime. Guardate un po'. Le abbiamo. Davvero di vari colori. Possiamo personalizzare. La nostra cucina. Come più vogliamo. E allo stesso tempo. Abbiamo un nuovo tipo. Di pavimento. Questo. Molto. Molto. Più semplice. Guardate. Sono delle vere e proprie piastrelle. Belle belle grandi. Anche queste ragazze. Ovviamente. Forse rendono di più. Di vari colori. Ecco. Le possiamo mettere. Più o meno. Dove vogliamo. Li abbiamo davvero. Di una svalangata. Di colori. E secondo me. Non sono niente male. Per quanto riguarda. Invece. La modalità. Compra. Abbiamo diverse cose. A partire dai banconi. Lisci. Ve li faccio vedere. Guardate. Quanto sono belli. Non sono nei colori del bancone. Ma abbiamo anche diversi tipi di top. Quindi in realtà abbiamo il marmo. Abbiamo anche la graniglia. Alla veneziana. Abbiamo un simil cemento. E anche in realtà il quarzo. Molto carini. I colori mi piacciono davvero tanto. E ovviamente in questa categoria. Approfitto anche per farvi vedere. Quelli. Che vanno a chiudere un po' tutto. Vedete. Abbiamo quello che fa ad angolo. Come vedete. Personalizzabile. Con degli slot. Dove noi possiamo mettere ciò che vogliamo. Ecco qua. E vado a farvi vedere anche la chiusura. In questo caso ragazzi. Come vedete. È tutto personalizzabile. Stessa cosa. Si può dire dei banconi dell'isola. Che ovviamente hanno gli stessi medesimi colori. Guardate un po'. Sono tutti colorati. Ma la peculiarità di questi banconi appunto la ritroviamo. Nei pezzi ad angolo. Nei pezzi tondi. Che ovviamente ben conosciamo. E giustamente nella fine e l'inizio del bancone. Guardate un po' quanto sono carini. Abbiamo un sacco di slot da riempire con oggetti random. E personalizzare tantissimo la nostra cucina. Stessa cosa ragazzi. Si può dire dei banconi da muro. Anche questi in vari colori. La peculiarità poi di questi banconi ragazzi. E che non solo sono belli. Ma hanno anche una luce. Vedete. Hanno i led incorporati sotto. E quindi sono anche luminosi. Anche questi ragazzi. In vari colori. Vi faccio vedere un po' di varianti. Ecco qua. La fine. Poi qua abbiamo invece il pezzo iniziale. Qua abbiamo il pezzo normale. Qua invece abbiamo il bancone ad angolo. Che in realtà non è un bancone. Ma sono delle mensole ad angolo. Bellissime. Abbiamo poi questo con uno slot. Vedete. Personalizzato. E poi abbiamo. Ovviamente anche questo ad angolo. Che ragazzi. Guardate un po'. Quanto è bello. E sa cosa si può dire? Delle mensole ragazzi. Vengono aggiunte due mensole. Di vari colori. Queste sono una manna dal cielo. Perché come vedete. Le possiamo aggiungere. Le possiamo unire. E secondo me. Servivano tanto. Vengono aggiunti poi anche piatti. Ovviamente di vari colori ragazzi. Che ve lo dico a fare. Tutti impilabili. Come quelli aggiunti negli ultimi DLC. Abbiamo poi il lavandino. Il lavabo. Ragazzi. Di vari colori. Ma vi voglio far vedere. Quanto è bello e definito. Lo scolatoio per le posate. Il taglierino. È davvero perfetto per la cucina. Abbiamo poi degli oggetti decorativi. Abbiamo delle salsine. Di vari colori. Abbiamo poi. In realtà. Postazione per pizza. Infatti abbiamo tutto quello che serve. Il parmigiano. La grattugia. Il basilico. L'origano. E tutto ciò che serve. Abbiamo poi. Il sale della vita. Che in realtà. Un portaspezie. Bellissimo. Mi piace un sacco. La bilancia ragazzi. Che è solo decorativa. Non ha una funzionalità. Abbiamo poi. Il ceppo. Dei coltelli. Molto bello. Questi ragazzi. Sono oggetti. Che utilizzeremo sempre. In cucina. La rendono più ricca. E poi abbiamo. Il gocciolatoio. Per i piatti. Che possiamo mettere. Ovviamente sotto i mobili. Guardatelo un po'. C'è un tagliere. C'è una grattugia. C'è anche un piccolo panno. Un porta posate. I piatti che scolano. Bellissimo. Abbiamo poi. Tre tipi di mensole. Ovviamente da soffitto. In vari colori. Basso. Medio. Guardatelo un po'. E ovviamente. Più alto. Questo ragazzi. Serve per personalizzare. Tantissimo. La cucina. Nuovo frigorifero. A mani basse. Il mio preferito. Su tutto. The Sims 4. Perché? Perché è perfetto. È lineare. È bellissimo. Ma soprattutto ragazzi. È decisamente utile. Dal momento che. Basterà fare così. E come vedete. Questo si può incastrare. In tutte le cucine. Quindi un frigorifero. Da incasso. Ragazzi. Era da per ora. Cucina nuova. Devo dire. Carina. Moderna. Se anche ne avevamo altre. Anche questa. In vari colori. Ha delle piastre. Mi piace. Nuova K aspirante. Credo ragazzi. A mani basse. La migliore. Perché questa. Come vedete. La possiamo mettere. In tutti i tipi. Di mobili. Anche quelli. Che abbiamo già ottenuto. È una K molto molto semplice. Di vari colori. Ma questa si mesha benissimo. A tutti i tipi di cucina. Era ora. L'aspettavo da tempo. E poi abbiamo le cose più interessanti. Ovvero. La macchina delle waffle. Ve la faccio vedere. Di vari colori. E soprattutto leggiamo. Qualità del cibo. Consumo elettrico. Abilità di cucina. Qua abbiamo. Il forno delle pizze. Ragazzi. Di vari colori. E questa. Una grande aggiunta. Abbiamo poi. La planetaria. Sempre. Di vari colori. Ed è molto utile. Ora la vedremo. E infine. Non meno importante. Un nuovo tipo di. Lava stoviglie. Che è da incasso. E che come vedete. Che prende. Una porzione. Del mobile. Quindi come vedete. Se io metto la lavastoviglie. Anche questa. Ragazzi. In vari colori. Resta una porzione. Del mobiletto. Abbastanza credibile. Che trasforma. Un mobile intero. A un mobile a cassettini. Con la lavastoviglie. Inclusa. Quindi ragazzi. Tanta tanta roba. Questo è uno staff pack. E come vedete. Non aggiunge. Chissà quanti oggetti. Ma aggiunge. Tante dinamiche. Aggiunge due nuove aspirazioni di vita. Che ora vedremo. E soprattutto aggiunge diverse funzionalità. Ed è arrivato il momento di parlarne. Partiamo dal vedere le aspirazioni di vita. Inizia la vendita di un cibo in un chiosco residenziale. Vendi 5 pizze o goff di qualità eccellente. Durante la vendita del cibo. Questa nuova abilità ragazzi. Si divide in 4 step. Inizia le vendite di cibo da due lotti distinti. Convinci i clienti a comprare qualcosa 5 volte durante la vendita del cibo. Guadagna 500 simoleon durante la singola vendita di cibo. Presidia un chiosco gastronomico per più di 6 ore. Vendi un articolo di qualità scarsa a 100. E poi. Fa risorgere un fantasma vendendo ambrosia. Guadagna 10.000 simoleon completando vendite di cibo. E vendi un passo a 300 simoleon. Vi fa capire ragazzi che questa aspirazione di vita è decisamente interessante. Non è facile da fare. Stessa cosa si può dire per il mago dell'elettrodomestice. Affettatore. Raccogli gli ingredienti pronti 5 volte con lo stato emotivo ispirato. Possiedi un piccolo elettrodomestico da cucina. Prova la cucina accelerata 5 volte. Raccogli 3 ingredienti pronti preparati con ingredienti freschi. Raccogli un ingrediente pronto di qualità eccellente. Cucina 5 volte mentre ascolti la musica. Cucina pasti usando 6 ingredienti pronti distinti. E poi abbiamo prepara guf gradevolmente sgradevoli. Prepara un ingrediente pronto usando la planetaria. Con almeno un aggiornamento. Cucina 2 pizze o goff con un singolo evento sociale e obiettivi. Dopo aver raggiunto il livello d'argento. Ragazzi tanta roba. Anche le due aspirazioni. Ci danno diverse ore di gameplay. E non sono per niente facili con aspirazioni. Ci faranno smattare un po'. Ma come avete letto. Ovviamente ci dicono anche di fare diverse cose con gli elettrodomestici. Ma che significa? Dinamiche nuove signori. Beh io partirei dal fatto che ora la nostra cucina è decisamente più ricca. Con l'aggiornamento pre-patch che è uscito infatti noi possiamo finalmente infornare o fare altre scelte volendo. Ma possiamo cucinare i nostri dolci. Come vedete l'aggiornamento ha cambiato la guì. Il menù di selezione abbiamo il cibo vegetariano, quello senza lattosio, la carne, il pesce e i dolci. Infatti come vedete qua le torte sono tutte messe in un'unica selezione. Non dobbiamo più passare a rassegna tutte le ricette. Perché erano troppe e giustamente sono state cambiate. Oltretutto dovrebbero aver anche aggiunto diversi piatti. E la cosa non mi dispiace affatto. È tutto molto molto più semplice. Qua abbiamo i cupcake che vi ricordo si potevano fare alla fabbrica di cupcake. Ora li possiamo fare e giustamente tutti i pasti, starete notando, richiedono un'abilità di cucina. Stessa cosa ragazzi riguarda la macchina dei gaffre. Semplici, alle bacche, speziate alla zucca, pollo, gaffre con banana split, pancetta e mela, funghi, pesce stagionato, zafferano, passione. Gradevolmente sgradevoli. E ragazzi anche qua ovviamente serve l'abilità di cucina fino a livello 10. Vi faccio vedere, possiamo farne ben 2, 4, 6, 8, 10, 12 tipi. Ragazzi abbiamo un mucchio di robe da fare. Stessa cosa ragazzi vale per la pizza. Qua abbiamo diversi tipi di pizza, anche questi legati all'abilità di cucina. Ovviamente qua possiamo uspitare se abbiamo ingredienti pronti o ingredienti freschi. E quindi qua ragazzi dobbiamo fare così. Semplicemente se io tolgo tutto posso fare le pizze senza nessun tipo di problema. Oppure aggiungere le cose soprattutto se abbiamo vita in campagna, con la vita semplice eccetera. Rende il tutto molto più credibile. Anche qua ragazzi abbiamo un sacco di pizze ma abbiamo anche le focacce, abbiamo lo sfincione e abbiamo diversi tipi di pizza. Fino a quella curiosa che richiede il livello 10. Quindi ragazzi sì, abbiamo un mucchio di robe da fare. La planetaria invece ragazzi serve proprio a preparare gli ingredienti. Abbiamo la pastella, quella senza lattoso, l'impasto, le verdure pronte, l'impasto per i biscotti, i frutti di mare pronti, la carne pronta, il surrugato della carne pronto. E questo ragazzi serve per poi cucinare con gli ingredienti pronti. Devo dire che questa dinamica mi fa impazzire. È fatta benissimo e secondo me ci darà del filo da torcere. Ovviamente signori queste cose non possono essere usate dai bambini. Infatti vi faccio vedere. Un bambino non può produrre ingredienti pronti, un bambino non può produrre i goffre e il bambino non può giustamente produrre le pizze. Un bambino però può fare dell'altro. Può infatti preparare tutti i gelati grazie all'aggiornamento e può anche mixare le bevande. Questo oggetto ragazzi è stato incluso con divertimento in cortile e quindi questo è un cross pack tra i due DLC. Parlo dello staff pack divertimento in cortile e può fare la limonata, il tè freddo e la sorsata di agrumi. Quindi il nostro bambino oltre a poter cucinare insieme a noi ovviamente, possiamo chiedere al bambino di partecipare alla cucina. Può fare dell'altro, ordine una consegna eccetera eccetera. Perché però un bambino può mixare tutte queste cose, intanto vado a fare una limonata con la bimba? Questo perché ragazzi ho giustamente omesso l'oggetto principale e principe di questo staff pack e ora ne parliamo. Frenesia ai fornelli infatti si basa tutto sul guadagnare dei simone, l'abbiamo letto prima, dalla vendita del cibo. E come si fa? Grazie a questo oggetto, un vero e proprio stand che ragazzi troviamo in vari colori, è estremamente personalizzabile e che può essere utilizzato da bambini e adulti per vendere il cibo. E ora vi faccio vedere cosa intendo. Intanto se noi ci clicchiamo abbiamo diverse cose, possiamo modificare le informazioni commerciali e scrivere che so ciao, assegna un marchio al chiosco, quindi vado a mettere esempio ciao. Posso metterlo nell'inventario perché questo oggetto lo possiamo utilizzare nel nostro lotto o nei lotti comunitari. Possiamo collocare l'elettrodomestico qualora noi ce li abbiamo nell'inventario. E ragazzi questo significa che io posso far così, vedete, metterli nell'inventario della bimba. E poi una volta che li ho posso mettere uno esempio da questa parte e altro da questa parte. Ora questo che ho appena fatto con le nostre limonate lo metto qui e vi spiego il motivo. Perché ho fatto fare la limonata alla bimba? Perché una volta fatta io la posiziono qui e come vedete possiamo iniziare la vendita di cibo. Un bambino può avere la sua bancarella di limonata, tè freddo che produce magari il gelato e così via. Per quanto riguarda invece lui il discorso cambia un po' nel senso che io posso mettermi qua, posso cucinare una pizza alla marinara con lui. Lo posso fare direttamente qua nel banco. Ovviamente lui acquisisce l'abilità di cucina e vi ricordo che dovete avere tutto a portata di mano. Guardate un po' il forno della pizza che funziona. La pizza è pronta quindi raccogliamo il pasto, eccolo qua. Il pasto giustamente ce l'abbiamo qui. Se io vado a fare apri devo capire se questo è esatto, posso metterlo qui e posso iniziare la vendita di cibo. In realtà come vedete vende solo lui. Se io avessi chiesto alla bambina di vendere avrebbe venduto la bambina. Questa è un'attività che possono fare adulti e bambini. Ma c'è una peculiarità. Infatti la pizza alla marinara ha otto porzioni restanti. Come gli altri banchi io posso aumentare i prezzi fino al 300%. Ma la peculiarità più importante è che lui adesso sta chiamando la gente per venire a comprare. Ma la peculiarità ragazzi è che loro non compreranno l'intera pizza. Restanti otto. Loro compreranno un trancio di pizza. Loro compreranno un cupcake dal... come dire... Dal vassoio di cupcake. Vedete la simmina? Le ha preso solo una porzione. Infatti ne sono rimaste 7. Funziona proprio come lo street food. Che noi abbiamo sempre avuto in maniera passiva. Vi faccio un esempio. Se io cerco ora da qualche parte. Fermi tutti. Eccolo qua. Come vedete noi qua abbiamo un banco di limonate. Io posso ordinare del cibo. Ordinare una bevanda. E giustamente io simm ne compro una. Non compro un vassoio. Stessa cosa vale in maniera attiva per i simm. Loro non comprano da noi un'intera pizza. Ma ne comprano un pezzo. E soprattutto fermi che lui mi sta schiattando. Fermi tutti i ragazzi che vado a fare così. Perdonatemi. Ma la cosa fondamentale è che abbiamo visto. Presentazione divertente. Vediamo un po'. Ok. Io qua ragazzi posso avere delle cose legate. Occupati del tavolo. Ecco. E una volta che noi ci occupiamo del tavolo. Possiamo fare un discorso da venditori. Possiamo convincere a comprare. Avete visto nell'aspirazione di vita c'era proprio scritto. Comincia a comprare una qualcosa. E soprattutto se io vado a fare disattiva o attiva rifornimento automatico. Quando io arriverò a zero. In teoria al costo di simoleon. Tutte le pietanze si ricaricano. Da una parte mi piace questa cosa. Dall'altra no. Quindi ragazzi. In questo caso. Noi abbiamo cinque porzioni. E se io dovessi però ricaricarle automaticamente. Non lo so. Forse si perderebbe il senso. Sicuramente la utilizzerò senza il rifornimento. In modo tale che se ho le risorse. Cucino eccetera eccetera. Ecco. Per fare appunto un impasto. Vi faccio vedere no. Un impasto. Non lo posso fare con lei. Scusatemi. Devo cliccare con lui. Prepara gli ingredienti. Qua mi chiede uno di farina. Latte o uovo. E zucchero. Quindi tutto questo si lega ragazzi. Ovviamente togliendo la spunta. Posso fare quello che voglio. Solo in base all'abilità. Si lega tantissimo a vita in campagna. E quindi ragazzi. Sta a voi poi decidere. Come giostrarvela. Come rendere ricca questa dinamica. E' estremamente interessante questo staff pack. Perché aggiunge diverse attività per i bimbi. E questa cosa mi piace. Pensate. È molto classico. L'abbiamo avuto su dei semestre. E due. Il bambino. La bambina. Che vende le limonate. Quindi far guadagnare il bambino con le limonate. È un classico. E secondo me ci sta. Per quanto riguarda invece gli adulti. Loro possono decisamente guadagnare. Con la vendita di cibo. Ovviamente più il cibo è buono. Più si guadagna. E secondo me può essere un'attività abbastanza remunerativa. E soprattutto il banchetto. Come vi ho detto. Io posso anche occuparmi del tavolo. Liberare il tavolo. Me lo metto nell'inventario. Vado a giro. E faccio colloca nello scenario. E inizio a vendere. È una dinamica decisamente interessante. E pur sempre uno staff pack ragazzi. Quindi non è un game pack. O un'espansione tanto ricca. Ma nella sua semplicità funziona alla grande. Ha comunque un crown sim decisamente ricco. Comunque oggetti. Tutine. Capelli. Insomma li abbiamo. Non troppi ma li abbiamo. Gli oggetti non sono troppi. Ma funzionano tutti. Quindi secondo me è perfetto. Addirittura vedete le mensole. Noi possiamo accendere questa stanza. E vi faccio vedere ovviamente la notte. Questi fungono da veri e propri lampadari ragazzi. Vedete? Queste mensole sono dei veri e propri lampadari. Quindi. In realtà questo staff pack cosa fa? Aggiunge lo street food in maniera attiva per i sim. Aggiunge diverse abilità per i bambini. E questa cosa mi piace. Aggiunge le pizze. Aggiunge tanta personalizzazione. Anche perché ok. Noi adesso la stiamo vendendo. Ma se vado a far così. E vado a far chiama a tavola ragazzi. Il sogno di una vita. Di farci una pizza per cena. Finalmente non è più una chimera. Ovviamente lo potevamo già fare. Ordinando una consegna. Ora le possiamo fare a casa. Possiamo farci l'impasto. Insomma rende il tutto decisamente più realistico. Vendere al banchetto poi. Come vedete ci fa acquisire l'abilità imprenditoriale. Ha guadagnato 1104 simoleon. Vendendo due vassoi di bevanda estiva. Perché l'ha ricaricato. Somma ragazzi. Che vi devo dire. Secondo me è tanta tanta roba. Semplice. Staff pack. Ma allo stesso tempo aggiunge. Una dinamica decisamente interessante. Starà a noi a questo punto farla fruttare. Possiamo fare le pizze. Fare un negozio con il lavoro. Se non vogliamo usare il banchetto. Probabilmente funziona. Sta a noi decidere come buildare. Una vera e propria bancarella. Ma ricontornandola con dei muri. Magari con le decorazioni del move object. E far una parte di casa. Legata allo street food. Magari qua davanti possiamo mettere. Che so. Della musica. Magari dei tavolini dove si può mangiare. E fare una sorta di vero e proprio ristorante a casa. Ragazzi. Questa cosa è da tenere a mente. Fidatevi. Questo staff pack. Per assurdo. Aggiunge diverse cose. Diciannovesimo staff pack. E signori. A questo punto io mi aspetto. Il ritorno degli staff pack. E se tutti. Aggiungeranno. Delle dinamiche del genere. Secondo me il loro ritorno. È davvero. Una manna dal cielo. Perché a questo punto ragazzi. Mi aspetto anche quello del tristo mietitore. E secondo me. Arriveranno. Abbiamo visto in toto. Tutto quello. Che si può fare con dei sims 4. Frenesi ai fornelli. Un cas. Non troppo povero. Né troppo ricco. Compra e costruisci. Non troppo povero. Né troppo ricco. Le dinamiche. Non troppe. Ma ben fatte. Tutti gli ingredienti. Parlando di cucina. Che fanno di questo staff pack. Un impasto. Secondo me. Ben riuscito. Abbiamo nuove dinamiche. Sta a noi. Sfruttarle al meglio. Fatemi sapere. Però a questo punto voi. Che ne pensate. Qua nei commenti. Per questa review. Completa di sims 4. Frenesi ai fornelli. E tutto. Spero ragazzi. Vi sia piaciuta. A questo punto però. Io vi ringrazio. Vi saluto. Vi do l'appuntamento. Ai prossimi video. Vi dico. Ciao a tutti.